E' finita con un ricovero al caffoncello la domenica sul grappa di un settantenne di altivole portato in elicottero a Treviso con un trauma cranico con motivo traumi facciali e contusione alla schiena. L'uomo si trovava con alcuni amici al parcheggio del rifugio Bassano quando ha appoggiato male un piede finendo per cadere per 60 metri lungo il pendio ghiacciato e sbattere contro alcuni alberi. Subito soccorso dagli amici il settantenne è stato stabilizzato dai sanitari del suo MD Crespano per poi essere condotto in elicottero a Treviso. non semplici i soccorsi perché al momento dell'incidente cima grappa raccoperta da una fitta nebbia. Domenica da dimenticare anche per un escursionista 34enne scivolato sul ghiaccio a Conco sull'alto piano di Asiago procurandosi la frattura di una gamba sul posto soccorso alpino 118.